La mancata approvazione del rendiconto consuntivo 2015 o del bilancio di previsione 2016 potrebbe già far saltare il banco senza aspettare la mozione di sfiducia. Si elabori un progetto per la città o si ponga fine a questa anonima esperienza che per la situazione drammatica che stiamo vivendo è persino durata fin troppo. Lo dice in una nota il portavoce di area civica Gialesi Movimento, Filippo Guzzardi. Chi pensa di poter continuare a bivaccare nelle istituzioni cittadine almeno fino all'estate del prossimo anno allorché passati i primi due anni di mandato si potrà votare l'eventuale mozione di sfiducia al sindaco senza che l'opinione pubblica ne abbia piena contezza si sbaglia di grosso, dice Guzzardi. La farsa che è in atto figlia di un voto schizofrenico così come maturato alle elezioni comunali del 2015, per di più aggravato dalla circostanza che ha visto il primo cittadino espulso dal Movimento 5 Stelle dopo averlo candidato sei mesi prima, non può più andare avanti. Basta. La bocciatura quasi totale dei gruppi consigliari in merito alla relazione presentata nel Consiglio Comunale da Messinese ne è la fedele testimonianza a meno di voler negare anche l'evidenza. Dall'entrata in vigore della legge regionale 17-2016 anche nella nostra isola la cessazione della carica di sindaco comporterà automaticamente la cessazione della giunta e del Consiglio Comunale. Viceversa la cessazione del Consiglio Comunale comporterà automaticamente la cessazione del sindaco e della giunta con la parola che verrà data di nuovo ai cittadini nelle cabine elettorali dopo un breve e necessario periodo di gestione straordinaria commissariale. E questo, dice Guzzardi, non per forza a partire dal prossimo rinnovo degli organi comunali. L'articolo 5,2 bis della legge regionale 17-2016, rimarca ancora Guzzardi, stabilisce che la cessazione del Consiglio Comunale per qualsiasi altra causa rispetto a quella delle dimissioni contestuali, comporta a partire da subito, cioè dall'entrata in vigore della legge, la decadenza del sindaco e della sua giunta. Una precisa disposizione che trova applicazione, quindi immediata. E quali possono essere altre cause di scioglimento del Consiglio Comunale, a parte le oramai tristemente note infiltrazioni di stampo mafioso? Sicuramente l'inatembienza del civico consesso è in ordine all'approvazione degli strumenti finanziari cardine di un comune, ossia il bilancio di previsione ed il rendiconto consuntivo. Giusto per rendere l'idea a chiude Guzzardi, basti pensare che per non approvare un rendiconto consuntivo o un bilancio di previsione è sufficiente anche una maggioranza semplice, nettamente inferiore alla maggioranza qualificata richiesta ad esempio per la mozione di sfiducia.